oggi con me c'è un'auto davvero speciale perché qua alle mie spalle c'è una 718 spider rs una versione estrema per una carrozzera spider che va a incarnare su 718 il massimo della sportività disponibile per questo tipo di vettura perché qua sotto batte un cuore molto importante perché abbiamo il classico 4000 aspirato da 500 cavalli 450 newton metro di coppia ma che viene vestito in una maniera molto più elegante mantenendo comunque sempre le stesse performance poco meno della versione caiman gt4 perché qua abbiamo sempre una vettura capace di sfiorare 300 chilometri orari 307 invece sulla versione coupé pensate un'accelerazione da 0 a 100 chilometri orari coperti in appena 3,4 secondi su un'auto ribadisco a trazione posteriore con motore aspirato e questo è merito del cambio pdk che tra l'altro su questa versione spider è l'unico l'unica trasmissione disponibile e con alcune dotazioni estetiche sicuramente molto molto belle ma direi di non perderci in parole di scoprirla un attimino insieme perché secondo me è un'auto davvero speciale innanzitutto questa vettura questa versione anche il pacchetto vaisac adesso scopriamo in che cosa cambia e direi di partire dalla parte frontale non cambia rispetto alla gt4 perché è assolutamente identico nella parte frontale e sono identiche tutte le appendici aerodinamiche che hanno funzione assolutamente reale non c'è nulla su quest'auto che non ha una funzione tecnica reale tutte le griglie per i radiatori nella parte bassa tutto lo spoiler anteriore che serve a deviare flussi aerodinamici verso il radiatore creare importanza anche qua nella zona bassa del paraurti tutto un cofano in fibra di carbonio molto bello tra l'altro qua nella parte centrale abbiamo questa lavorazione verniciata che non è un adesivo infatti se passo il dito non c'è spessore perché c'è uno strato lucido che va a rendere omogenea tutta la superficie altre prese d'aria sfoghi aerodinamici della della carinatura del passaruota molto molto belli perché rendono questa vettura incredibilmente con una pila incredibilmente prontopista un gruppo ottico con i classici quattro dot della firma luminosa porsche il baffettino qua sotto lo vediamo lo vediamo accompagnato poi da un set di cerchi in magnesio molto molto belli anche di questo colore grigio mi piacciono tantissimo tra l'altro qua vedete c'è anche il monodado assolutamente reale e poi uno sviluppo laterale della vettura che va a condivare soluzioni estetiche con soluzioni funzionali non solo fibre di carboni per andare alleggerire la vettura con questo pacchetto quanto più possibile ma vedete anche lavorazioni per il supporto degli specchietti per questa gondola che favorisce anziché migliora il drag aerodinamico avendo meno resistenza una parte laterale che non cambia molto la state vedendo in questo momento le prese d'aria ovviamente anche qua hanno sempre funzione reale questi convogliatori aerodinamici sia nella parte bassa che nella parte alta guardate che bella e una zona posteriore che su questa versione spider mi ha fatto innamorare guardate che belle queste due sezioni laterali che del poggiatesta creano una superficie di continuità aerodinamica e che rendono anche molto più bella a livello estetico secondo me questa versione spider che riescono a migliorare ancora di più quella che è la di portanza della vettura grazie a dei flussi che vanno poi convogliati sul spoiler posteriore e che aiuta a mantenere portanza anzi di portanza sulla zona posteriore dell'auto cerchi qua dietro sempre in magnesio come abbiamo visto nella zona anteriore per poi completare il tutto su questo estrattore e ribadisco reale con l'impianto di scarico in titanio molto molto bello ma la cosa che secondo me è più interessante è tutto lo sviluppo della zona posteriore che va a cogliere tutta la capote ma qua è un'altra storia e ve la faccio vedere perché così che si presenta coperta l'auto attenzione tutto il tetuccio ha richiesto una riprogettazione da zero specifica per questa versione rs perché ovviamente anche su questi elementi bisogna risparmiare peso peso che in questo caso è di 8 kg inferiore rispetto al passato e pensate che tutto questo elemento si riesce a svincolare con un complesso sistema che si può attuare anche da soli in maniera completamente manuale intanto vi faccio vedere il dettaglio per come è agganciato perché ci sono alcuni punti specifici ovvero i tiranti di tutta la capote che sono nella zona posteriore un anello di sicurezza che si va a francare al telaio qua dentro e ovviamente la modalità di sblocco che va a riguardare nella parte interna questo gancio che si può svincolare comodamente quando si è seduti cosa che adesso farò innanzitutto sblocco qua nella parte centrale premo un pulsante rosso tiro e adesso svincolato dall'anello parabrezza tutto quanto svincolo il tirante della capote e sposto tutto tutta la cerniera nella zona superiore di questa pseudo di questo pseudo supporto ad anello dopodiché posso procedere ad aprire la zona posteriore per andare a svincolare l'anello di tenuta di tutta questa zona di sicurezza di questa di questo tirante di sicurezza e lo si fa da quella parte svincolo il tirante in questo modo e con il tirante di sicurezza svincolato vado ad arrotolare tutta la capote su se stessa una volta fatto posso procedere allo sgancio di tutta la zona superiore e andare a riporla appena qua sotto in teoria se abbiamo fatto tutto giusto adesso la macchina si chiude incredibile tacchete facile più o meno e una volta aperta posso avere le massime prestazioni di guida anche in plein air insomma un'auto veramente incredibile che internamente cambia assolutamente in modo nullo rispetto alla versione coupé che già conosciamo se non di nuovo per qualche dettaglio in fibra di carbonio portate il pacchetto vaisac che fa risparmiare anche una trentina di chili grazie anche questi sedili che tra l'altro hanno ovviamente griffato il logo vaisac rs che sono ultra leggeri ultra contenitivi insomma praticamente sedili da pista insomma un bell'oggettino che adesso va a completare la gamma 718 un bell'oggettino che sarà disponibile nei prossimi mesi a un prezzo di circa poco superiore ai 150 mila euro si parla di 155 mila euro il tutto su un'auto che diventa incredibilmente gustosa anche per chi vuole fruire di prestazioni massime è in plein air detto questo fatemi sapere voi che cosa ne pensate di questa 718 spider rs qua sotto nei commenti noi ci vediamo al prossimo video sempre su automoto ciao ciao